Perchè chiamo questi tre amici? Avete visto arrivati? Perchè chiedere Max Perini Blogger e portare anche nella pubblicazione Catastroferro, prego, con un apriote, poi qualcuno di loro ti dà qualcosa e concluderemo con i talenti segno. Perchè chiedere Max Perini Blogger e portare anche nella pubblicazione Catastroferro, prego, 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 prego. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E allora cominciamo con Max Perini, prego. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ragazzi, un attimo solo per pensare. Ragazzi, un appello. Ragazzi, un appello a voi. C'è come il sabato che è giusto le scuole. Però c'è un problema molto importante per il vostro futuro. Giorno uno, sui latori, ci sarà una sandalessa per tutte le persone che sono morti per il vostro dovere volontariato. Ed è poco importante la vostra presenza per il motivo semplice. Giorno uno, sui latori. Per la prima volta nella storia d'Italia viene la magistratura, la presidente della magistratura che porta la corona al momento. Per tanto, è un appello per il vostro futuro. Io vi chiedo scusa come padre e mamma che non mi abbiamo dato l'Italia di noi. Per tanto, è un problema nostro per il vostro futuro, i vostri figli e i vostri amici. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti.